Incapace di intendere e volere per tale motivo è stata assolta la donna che nel lontano 2022 uccise il proprio figliatore del greco soffocato in mare. Il giudice ha emesso tale verdetto ed applicato tale misura di sicurezza della libertà vigilata per non meno di 15 anni presso una struttura di riabilitazione. Il tutto ha scaterato il dissenso del marito dell'imputata che ha urlato in maniera vevente sei un'assassina nei confronti della donna. Entro 90 giorni verranno rese note le motivazioni della sentenza. Un processo particolarmente difficile ma finalmente è stata fatta giustizia. È stata prosciolta perché è una persona malata, così l'avvocato difensore della donna. A far sì che venisse assolta ci hanno pensato le perizie psichiatriche che hanno aiutato i giudici a far luce sulla patologia, a confermarlo la criminologa clinica consulente dell'avvocato dell'imputata.